Care professoresse e cari professori, ben ritrovati qui su Ultimora e questo mese iniziamo dalla sezione dedicata agli aggiornamenti e lo facciamo partendo da due iniziative referendari di cui si è molto parlato nelle ultime settimane e che hanno entrambe raggiunto e superato la soglia delle 500.000 firme raccolte. Mi riferisco evidentemente alle iniziative in tema di legge sull'autonomia differenziata e acquisizione della cittadinanza italiana. In attesa di sapere e di scoprire quale sarà il destino di questi due quesiti referendari, cogliamo l'occasione nel primo articolo che vi proponiamo per riesaminare insieme come funziona il cosiddetto calendario referendario che si snoda attraverso i 12 mesi dell'anno anche per capire quali saranno le prossime tappe che attendono l'iter di queste due ultime iniziative referendarie. La seconda novità aggiornamento di cui parliamo riguarda l'ambito del diritto commerciale perché è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto correttivo TER che interviene per la terza volta sul codice della crisi e dell'insolvenza. Quindi nel nostro secondo articolo vi raccontiamo quali sono le principali novità introdotte. Ma non finisce qui perché come vi avevo già preannunciato il mese scorso ultimora si è arricchita di nuove sezioni al suo interno e una è proprio dedicata agli spunti di didattica cioè proposte di attività già strutturate con griglia di valutazione che se vorrete potrete proporre alle vostre classi. Questo mese ve ne proponiamo due. La prima si sposa bene con l'articolo in tema di referendum perché porta i vostri ragazzi e le vostre ragazze a approfondire il tema dell'acquisizione della cittadinanza in un'ottica di diritto comparato. La seconda invece è un'attività a cavallo fra il diritto pubblico e l'educazione civica perché porta i vostri ragazzi e le vostre ragazze a misurarsi con il tema che potremmo definire dello stato ideale. Queste sono tutte le proposte di questo mese ma prima di salutarvi vi preannuncio che a breve pubblicheremo uno speciale dedicato alle elezioni americane. Vi forniremo dei materiali che potrete se vorrete proporre in classe per capire come viene eletto il presidente degli Stati Uniti e rispondere anche a una serie di domande e di curiosità. Per esempio come mai non sempre vince chi prende più voti, chi sono i grandi elettori e come funziona il voto postale. Quindi restate collegati con il mondo ultimora perché prossimamente sarà pubblicato anche questo speciale per trattare di attualità con più strumenti e più consapevolezza. È davvero tutto per questo mese io vi auguro come sempre un buon lavoro e ci rivediamo qui fra altri 30 giorni.